Ciao, io sono Luca Varone e interpreto il personaggio di Stefano. Stefano è un ragazzo che ha girato moltissimo il mondo. Si può dire che ha preso più aeriche e autobus. Perché suo padre era costretto a trasferirsi per lavoro. È libero questo? Stefano! Sì, certo. Ma che c'è? Non devi essere a Buenos Aires. Quest'anno lo passerò più a Roma. A Roma. Non ha mai scoperto che cos'è la vera amicizia. Io non posso affezionarmi a un posto. Non posso avere amici. Però i James si stravolgeranno la vita. Comunque sono felice che si trova in colpa. E' stato difficile incontrarti. Come Joy a Stefano gli piace cucinare. Non si tira mai indietro quando c'è una sfida. Ridaglielo. E tu che vuoi? Mi ti hanno insegnato a chiedere per favore. Io non chiedo mai per favore. Dovresti incominciare a farlo. Grazie. Ed è molto leale e generoso con gli amici. Il mio braccialetto. Sì. Dopunque sarai, farei sempre parte dei James. È un bel ragazzo ed è molto intraprendente. Sa fare tantissime cose. Ma che, detto così, sembra troppo perfetto. Ah, per esempio, come difetto... È per me? Sì. Direttamente dalla Transiculare. Grazie, non dovevi. È bellissima. Chi non si innamorerebbe di Stefano? Sono fatti per stare insieme. Non voglio anticiparvi troppo. Non perdetevi James su Facebook.